Mitigare il rischio idraulico evitando di danneggiare l'equilibrio ecologico. Questo l'obiettivo dell'intervento che si è concluso a fine 2021 da parte del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno, nei circa 3 chilometri del fiume Arno di sua competenza. È il tratto che si sviluppa a monte di Ponteburiano fino a raggiungere il confine della zona speciale di conservazione Ponteburiano e Penna. Si è trattato del primo di quattro interventi di manutenzione ordinaria caratterizzati da un unico denominatore, la vicinanza ad aree particolarmente delicate dal punto di vista naturalistico. In considerazione della presenza di siti comunitari e quindi di aree che possono essere danneggiate dagli interventi per il controllo della vegetazione, sono state programmate solo operazioni strettamente necessarie, spiega il direttore generale del Consorzio Francesco Lisi. Il taglio della vegetazione arbustiva è stato limitato ad aree ristrette dove era necessario liberare alcune opere essenzialmente ponti. Nei rimanenti tratti non abbiamo ritenuto che la vegetazione erbacea ed arbustiva costituisse un ostacolo al deflusso regolare delle acque. L'intervento principale quindi si è concentrato unicamente sulla rimozione di esemplari arborei in condizioni critiche tali da poter creare futuri problemi idraulici e di sicurezza.